Sono ancora da stabilire le cause dell'incendio di due auto avvenuto la scorsa notte in Vietemanza a Padova. Erano circa le 3.30 quando l'allarme è scattato alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri con la prima partenza, un'autobotte e sette operatori che hanno lavorato circa due ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta ferita. Delle due auto sono rimaste solo le carcasse. Grazie.